buongiorno a tutti e bentrovati nella lezione di storia di oggi parliamo della rinascita del commercio dopo l'anno 1000 facendo un breve cenno a quella che è la situazione in generale in europa e poi parleremo delle repubbliche marinare allora partiamo con la situazione dopo il mille abbiamo già parlato in un video precedente degli elementi di rinascita che hanno riguardato la demografia e l'agricoltura dopo il mille si torna anche a commerciare un po di tutto quindi lana stoffe prodotti agricoli le città rinascono hanno gradualmente chiaramente un passaggio che non viene da un giorno con l'altro ma hanno proprio una vedono proprio un incremento delle attività produttive anche di scambio e cominciano a diffondersi le fiere le fiere sono dei grandi mercati che si tengono una volta o due all'anno e nei quali giungono mercanti che provengono anche da molto lontano per vendere prodotti di vario genere e acquistarne altri i commerci europei in quest'epoca gravitano soprattutto intorno a due aree quella mediterranea e quella dell'europa del nord le città mediterranee erano in collegamento con altre realtà esterne a quella europea quindi con l'oriente bisanzio in particolare e con il nord africa quindi l'egitto dove arrivano i prodotti che provengono anche appunto dall'oriente lontano i mercanti italiani fanno poi in modo che queste merci arrivino nell'europa centrale settentrionale dove esistono importanti centri commerciali nei quali poi vengono smistate dai quali vengono smistate a livello locale nell'europa del nord in particolare possiamo dire che la zona più sviluppata da un punto di vista dei commerci è quella delle fiandre le fiandre sono un'antica regione che corrisponde a quella che attualmente l'area geografica dell'olanda del belgio e di una parte della francia settentrionale più tardi divenne molto fiorente anche la zona del nord europa bagnata dal mar baltico e dal mare del nord e possiamo dire che in questa zona a partire dal dal trecento si ha proprio un incremento in questo senso tanto che molte città guidate da lubecca si uniscono in un'associazione che viene chiamata lega ansiatica che ha lo scopo proprio di proteggere gli interessi delle città commerciali del nord europa ecco quindi questa è globalmente chiaramente ricapitolata molto in sintesi la situazione dei commerci dopo il mille ecco in questo contesto economico si innesta la fioritura il periodo di fortuna di quelle che vengono chiamate repubbliche marinare e che sono una realtà che riguarda la penisola italiana allora vediamole più nel dettaglio quindi in italia i primi centri urbani proprio a trarre beneficio dalla rinascita dell'occidente sono quelli in riva al mare quindi tra il nono e il decimo secolo alcune città costiere cominciano a dedicarsi al commercio in modo consistente facendone proprio la loro attività prevalente e al fine di difendere la propria libertà economica si organizzano con delle forme di autogoverno quindi il governo della città viene affidato ad un'assemblea formata da cittadini dai cittadini più importanti e nascono così le cosiddette repubbliche marinare quindi la forma di governo è quella repubblicana e l'aggettivo marinaro ci ricorda che sono legate appunto ai commerci marittimi le repubbliche marinare sono diverse quelle più famose sono quattro ossia amalfi pisa genova e venezia ma ne abbiamo anche delle altre ad esempio ancona oppure noli o gaeta ecco in questo audio ci concentriamo su quelle più famose che sono quelle che hanno lasciato diciamo un segno importante nella storia italiana possiamo dire che il loro sviluppo quindi il periodo di maggiore fortuna di ognuna di queste quattro avviene in successione anche se chiaramente abbiamo dei periodi di sovrapposizione fra una repubblica e l'altra andiamo quindi con ordine e partiamo dalla prima che è quella di amalfi la repubblica di amalfi fu appunto la prima ad affermarsi in tutto il mediterraneo e divenne famosa non solo per i suoi commerci ma anche per l'abilità dei suoi marinai i mercanti amalfitani riuscirono a sottrarre agli arabi il monopolio del commercio nel mediterraneo già a partire dal decimo secolo fondando anche delle basi mercantili in italia meridionale in africa e nel medio oriente quindi turchia siria ed egitto e addirittura arrivando ad istituire il primo codice di diritto marittimo ossia le cosiddette tavole amalfitane quindi una serie di leggi del mare che venivano accettate da tutte le nazioni marinare dell'epoca oltre a questo gli amalfitani hanno anche disegnato le prime carte nautiche e hanno perfezionato la bussola la bussola esisteva già era stata inventata dai cinesi ma viene proprio perfezionata dai dai mercanti soprattutto dai navigatori più che dai mercanti delle repubbliche della repubblica amalfitana anzi addirittura abbiamo anche una leggenda in proposito perché viene per molti anni è stata attribuita appunto all'italiano flavio gioia di amalfi l'invenzione della bussola in realtà pare che questo flavio gioia non sia mai esistito c'è stato probabilmente un errore nella traduzione di una di un passaggio dello storico flavio biondo che nel nel cinquecento fu il primo a parlare della diffusione della bussola questo perché flavio biondo scrive in latino e la formulazione del testo può essere intesa in due modi quindi nel nel passaggio in cui dice amalfi in campania veteris magnetis usus inventus a flavio traditur questo complemento da gente a flavio che probabilmente nelle intenzioni dell'autore doveva essere letto in funzione di traditur cioè viene tramandato da flavio appunto biondo che nell'uso della bussola l'uso della bussola sia stato inventato ad amalfi può essere invece anche riferito al participio passato inventus quindi la traduzione sarebbe si tramanda che l'uso della bussola sia stato inventato ad amalfi da flavio quindi non si tramanda da flavio ma è stata inventato da flavio allora in questo caso il flavio in questione non sarebbe più lo storico che scrive ma sarebbe l'inventore della bussola poi una trascrizione successiva a cura di un altro storico vissuto più tardi scipione mazzella ha aggiunto un altro elemento non si sa come mai avrebbe aggiunto appunto che il luogo di origine di questo flavio fosse la città di gioia in puglia quindi si cominciò a parlare di questo flavio di gioia che poi diventò flavio gioia appunto mitico inventore della bussola invece probabilmente questo personaggio non è mai esistito anche se certamente la bussola è stata perfezionata se non inventata ad amalfi ecco la fortuna della repubblica marinara di amalfi cessa nel nell'undicesimo secolo quando i normanni si impadroniscono dell'italia meridionale e abbiamo a questo punto l'emergere di pisa quindi la seconda repubblica marinara che avrà il suo periodo di massimo splendore dall'undicesimo secolo fino all'anno 1284 quando verrà sconfitta da genova nella battaglia navale della meloria ecco pisa nell'undicesimo secolo fra l'altro si era alleata con genova appunto erano state due repubbliche affratellate dalla necessità di difendersi dalle scorrerie dei saraceni e dopo averli sconfitti si erano dedicate entrambe ai commerci chiaramente giungendo ben presto a rivaleggiare tra di loro e con venezia quindi chiaramente la rivalità fra pisa e genova è dovuta alla vicinanza geografica e quella con venezia comunque ad una rivalità di interessi quindi tra genova e pisa scoppia questa forte rivalità che finisce in uno scontro appunto la battaglia del 1284 in cui i genovesi sconfiggono i pisani e con questa sconfitta inizia proprio la decadenza della città toscana genova come dicevamo prima esisteva già dal decimo secolo e si era distinta per l'esistenza della compagna comunis una grande associazione di mercanti e di marinai che governava la città ministrando i beni del comune dopo la battaglia con pisa rimane l'unica padrona del martirreno e del mediterraneo occidentale quindi chiaramente ha un periodo di splendore che dura fino al 14esimo secolo quando è costretta a soccombere di fronte alla supremazia veneziana venezia quindi è la quarta delle repubbliche marinare è la più antica come origini in quanto già dal quinto secolo alcuni uomini gli abitanti di aquileia e di altre città del veneto avevano cercato rifugio nella zona lagunare per sfuggire alle invasioni barbariche fino all'ottavo secolo però era stata sotto il dominio bizantino e in seguito l'aristocrazia di venezia aveva raggiunto il potere dando vita ad un governo di pochi ad un'oligarchia venezia chiaramente per la sua posizione naturale era favorita nel nel contatto con l'oriente quindi costituisce sicuramente un luogo strategico a lungo conteso anche da molte popolazioni quindi franchi bizantini normanni ma riesce sempre a mantenere la propria indipendenza ecco quindi venezia che manterrà poi fra l'altro la sua indipendenza fino alla fine del 700 quindi fino all'arrivo di napoleone possiamo dire proprio a un decollo in quest'epoca e chiaramente ovviamente i suoi abitanti non potendo vivere solo di pesca o di produzione del sale incrementano proprio l'aspetto commerciale facendo ottenendo insomma un grande successo in merito ecco con questo abbiamo terminato la questa breve panoramica sulle repubbliche marinare spero che abbiate trovato interessante e di aiuto questa lezione e vi invito a continuare a seguire il canale arrivederci alla prossima